Perché scegliere l'aspirapolvere Romenta? Perché acchiappa i fantasmi della polvere? Perché dura più di un film? Per la tecnologia protomica? Ma soprattutto, perché ti trasforma in un vero Ghost Duster? Potremmo avere a che fare con un intero esercito di fantasmi, così spaventosi da gelare il sangue nelle vene. Acquista Romenta X-Force Flex. Puoi vincere un Experience Ghostbusters a New York per 4 persone e tanti prodotti Romenta. Ghostbusters, minaccia glaciale. Da aprile al cinema. Grazie a tutti.